Salve a tutti cari amici di Infinity Games e bentornati sul mio canale Ragazzi prima di cominciare questo video brevissimo volevo fare gli auguri di Natale a tutti Oggi 25 dicembre siamo arrivati finalmente a Natale quindi speriamo di goderci queste feste Ragazzi un altro gioco misterioso, il nono gioco misterioso, vi ricordo che sono 15 in totale su Epic Games Andiamo a vedere insieme ragazzi Darkest Dungeon Ragazzi un GDR a turno strategico, andiamola ad aprire, prima i server erano tutti bloccati Ora finalmente ci fa accedere Ragazzi cosa dire, non lo conosco, non è un titolo che conosco, non ci ho mai giocato Ho visto qualche recensione, ho visto qualche gameplay Sembra carino per chi piace appunto questo genere di titoli Da come ho potuto capire dovete accompagnare questi personaggi all'interno di un'avventura Ricca di misteri e dovete sconfiggere diversi personaggi per poter poi sopravvivere Insomma ragazzi un vero e proprio gioco strategico a tutti gli effetti Ragazzi voglio ricordare a tutti coloro che non conoscono quest'iniziativa di Epic Games Che regalano, hanno regalato già dal 17 dicembre per ulteriori 15 giorni un gioco gratis Quindi voi avete ogni giorno fino alla fine del periodo natalizio La possibilità di poter ottenere dei giochi gratuiti da Epic Games ogni giorno solo per 24 ore Attenzione, già domani dalle ore 17 questo titolo non sarà più disponibile nell'Epic Store Quindi fate attenzione Ragazzi video breve come questi ultimi che sto appunto portando sul mio canale Ci saranno tantissimi altri contenuti E cosa dirvi, ancora tantissimi auguri da parte del mio canale Da parte di Infinity Games e noi ci vediamo presto Ciao